ben ritrovati amici avventurieri eccoci qua di nuovo insieme io sono millo e benvenuti su millo cloud gaming oggi torno a parlare di boosteroid perché c'è stato un piccolo aggiornamento o meglio ci sarà un aggiornamento sarà l'introduzione di un nuovo sistema ma prima di dirvi cos'è questo sistema io ovviamente vi spiego un attimino al volo che cos'è boosteroid per chi non dovesse saperlo è semplicemente una piattaforma di cloud gaming così come lo è geforce now il funzionamento è pressoché identico quindi non c'è niente di strano potete tranquillamente controllare voi stessi basta che andate sul sito boosteroid.com se non ricordo male a volte mi vengono questi questi vuoti e una volta arrivati sul sito potete cliccare sulla iconcina in alto a destra del contachilometri lanciare il vostro test di connessione vedere se tutto funziona alla grande se la connessione che avete è sufficiente per usufruire di boosteroid dopodiché potete tranquillamente abbonarvi e iniziare a giocare ci sono diversi titoli già nel catalogo ricordo ovviamente che i titoli che volete giocare dovete possederli quindi dovete averli comprati a meno che non si tratta di titoli free to play come per esempio path of exile gas in impact e football 2024 counter strike league of legend insomma i tutti i titoli free to play si possono tranquillamente giocare gratuitamente con abbonamento ovviamente alla piattaforma mentre per tutti gli altri bisogna possederli su steam epic a seconda vedete per esempio qui bisogna possederlo su epic qui su steam ci sono le varie iconcine e quindi nulla questo è quanto ma veniamo all'aggiornamento quale l'aggiornamento è praticamente il sistema il sistema di code quindi il sistema di code arriverà anche su boosteroid che cosa significa questo significa che quando voi tenterete di vorrete giocare un gioco un titolo una volta cliccato su play la piattaforma farà il check di macchine virtuali disponibili laddove non ci sarà una virtual machine disponibile il sistema vi metterà direttamente in coda e quindi poi man mano che si liberano ovviamente procederete e fin quando toccherà a voi e poi potrete tranquillamente giocare questo perché a quanto pare il sistema la richiesta di boosteroid è salita tantissimo ci sono tanti nuovi utenti la piattaforma sta funzionando loro ci stanno lavorando alla grande tant'è che è in lavorazione anche il 4k quindi arriverà il 4k con abbiamo visto l'altra con un altro video e forse anche il game pass ma lo diciamo a bassa voce lo diciamo a bassa voce perché non ne siamo sicuri faremo a vedere il 4k invece arriverà ma torniamo a noi quindi questo sistema di coda funziona in questo modo laddove ovviamente voi lascerete la coda niente perderete ovviamente la la posizione c'è da dire me l'hanno mandata qui nell'email c'è da dire che laddove voi non volete stare in coda non voleste stare in coda c'è praticamente una nuova feature che arriverà e sarà quella di praticamente la possibilità di cambiare regione nel senso che se non ci sono virtual machine disponibili nella nostra regione possiamo decidere di andare altrove chiaramente questo farà salire la lag perché più ci allontaniamo e più chiaramente no salirà la latenza il ping eccetera eccetera però se si hanno connessioni molto veloci si può sempre provare no voglio dire non c'è non c'è nulla di male quindi come vedete ragazzi boost eroid si sta aggiornando tantissimo e io sono felicissimo di essere un loro partner di creare content per loro tra l'altro adesso arriverà anche più content qui sul canale quindi vediamo un po vediamo un po e aspettiamo con ansia questo nuovo sistema di code e chiaramente anche il 4k che non vedo veramente il loro perché poi se la giocherà veramente alla grande con con geforce now che al momento è uno dei servizi più potenti no di cloud gaming quindi sistema di code su boosteroid lo so potrebbe essere una news che fa storcere il naso invece no è una cosa ottima perché se no si resta lì in attesa e che facciamo cioè riusciamo a giocare tra quanto tempo giochiamo quanto tempo aspettiamo ce l'abbiamo il tempo per aspettare quindi cioè capite che chiaramente è una cosa buona perché sapendo la nostra posizione in colla sappiamo anche tra quanto tempo ci tocca giocare l'unica cosa tenete a mente che all'inizio chiaramente siccome non ci saranno dati a sufficienza perché è proprio la partenza i dati potrebbero risultare un po sballati ma questo poi è normale la normale routine infatti loro mi hanno nell'email hanno sottolineato questa cosa qui mi raccomando può succedere questo perché chiaramente bisogna raccogliere i dati poi una volta passerà poco una volta che si avranno i dati tutto diventerà più preciso quindi nessun problema avventurieri questo qui un piccolo video un video abbastanza breve per spiegarvi questa nuova feature di boosteroid in attesa anche dei nuovi titoli che arriveranno sicuramente o questa settimana o la prossima settimana per l'anno nuovo speriamo bene e io chiaramente non posso che augurarvi anche buon anno quindi ci mi raccomando ok grazie grazie di cuore noi ci vediamo nei prossimi video ciao